Anche con Adidas passiamo alle top di gamma, una Adidas X Crazy Fast .1 FG. Ora passiamo praticamente alla gemella, la Adidas X Crazy Fast .1 SG in ferro, come potete vedere dalle tacchetti. Passiamo ora alla Predator Accuracy .2 FG, top di gamma, abbiamo la zona grip verso il dorso del piede per aiutarci meglio con il controllo del pallone. Passiamo alla Predator in ferro, Predator Accuracy .3 SG, come potete vedere anche qua abbiamo una zona grip meno evidente e tacchetti in ferro un po' più arrotondati rispetto al modello X Crazy Fast. Come Nike, anche Adidas propone la sua scarpa in pelle, una Copa Pure .1 FG, top di gamma. Passiamo all'altra colorazione top di gamma delle X Crazy Fast .1 FG, con colorazione nera e blu, diciamo accesa dove c'è il logo. Per quanto riguarda i calzini abbiamo la colorazione nera e bianca. Per quanto riguarda i parastinchi abbiamo una multisplicità di colori da poter abbinare al nostro colore di scarpe, blu, rosa, bianco-giallo e bianco. Come Team Line Nike, anche Adidas fa il suo Team Line con diverse colorazioni, bianca, blu, nera e blu scura. Se ti è piaciuto il video metti mi piace, seguimi e commenta questo video.